I look at you and it's easy to see, you are that someone I've been trying to meet Ciao a tutti e bentornati, allora partiamo subito con quella che è l'ultima notizia che ha sconvolto il tubo Pensate come siamo messi La fine della bella amicizia tra Chiara ed Erbetta Siete sconvolti? Beh, ripigliatevi perché non è finita qui Lara da un po' di tempo si sente in privato con Senz'Anima, tanto che si sono chiarite ed Erbetta ha ritirato la diffida che aveva fatto a Francesca Ora, cos'è successo? Che Chiara sapeva del contatto tra le due e chiedeva ad Erbetta di passarle le chat con Senz'Anima Per farci che, boh, con molta probabilità delle live dissing Erbetta si è rifiutata e da lì qualcosa ha fatto crack Ma, in attesa delle live sputtanamento, quelle in cui si faranno ascoltare audio, telefonate, screen, noi cambiamo personaggio Parliamo della Medium che, dopo due live terrificanti, cariche di odio, minacce, insulti Oggi ha trasmesso una breve live per condividere con quella che è la sua utenza gli ultimi aggiornamenti in merito allo stato di salute di Calogero Hanno effettuato una visita di controllo dal dermatologo ed hanno scoperto che... Siete curiosi? Bene, perché adesso andiamo a riassumere il tutto Innanzitutto si scusa se in questa live riuscirà a fare poche risate finte come al solito Ma capirete bene che, dato il brutto momento che stanno vivendo, che dura da oltre dieci anni, è difficile Bene, oltre a questa breve live uscirà presto anche un vlog dove lei documenterà il tutto Cioè il loro arrivo in ospedale, il fatto di quando saranno accolti dal dermatologo e tutto il resto Giusto perché lei, a differenza di Chiara, non fa pietismo utilizzando le malattie Né tantomeno ci monetizza su... Beh, grazie al piffero, le hanno demonetizzato il canale Allora, andiamo al sodo Cosa ha detto il dermatologo? Il dottore dice che Calogero ha incorso un'ustione che ha colpito interno coscia, piedi e mani Si tratta di una reazione allergica a qualche pomata o qualche prodotto che ha usato lui La loro ipotesi è che Calogero, con molta probabilità, è allergico alla pomata Sofagen O forse era Sofagel, vabbè, chi se ne frega Perché la cosa importante è il fatto che la situazione è peggiorata Quando per la seconda volta hanno usato proprio questa benedetta pomata Il dottore dice che ci vorrà un bel po' di tempo Prima che il tutto si risolva e nel frattempo deve tenere le zone disinfettate E passarci su delle pomate e bendare il tutto Tutto che le parti interessate Pertanto, principalmente, le conseguenze sono due Una, niente gite fuori porta e dice dove? Beh, forse a Milano City E seconda, che non si trattasse di varicella Come era stato ampiamente ipotizzato La medium ci tiene ad avvisare la sua utenza Che nei prossimi giorni sarà davvero poco poco presente Perché? Perché arriva sera stanca Ma nonostante il brutto periodo che stanno vivendo Nonostante lo stato di saluto e di calogero Non perde occasione per commentare la fine dell'amicizia tra Chiara ed Erbetta Giusto il tempo di accendere l'ennesima sigaretta E poi ringrazia gli utenti che hanno inviato dei soldi Perché con quelli arrivati ci si è pagata la bolletta della luce E alcune medicine per calogero Questo vuol dire che qui bisogna sapere anche leggere un po' tra le righe E cioè che i soldi erano pochi Sono finiti, quindi tocca che ne rimandate Ma torniamo all'autorevole parere della nostra medium Sulla fine dell'amicizia tra Chiara ed Erbetta Lei ribadisce di non aver seguito nulla Perché? Perché adesso è presa e straziata da questo brutto momento Ma sa benissimo che Chiara ha attribuito a Lara il suo aumento glicemico E da spiritosona Qual è? Dice Ma che fa di cognome Erbetta? Cornetto al cioccolato? Già Ebbè Ecco Che silenzio imbarazzante Vabbè Nella parte finale di questa brevissima live Ribadisce che sarà poco presente su YouTube Dice uno che domani sta di nuovo in live Bene E ci sono stati anche un bel po' di commenti In sostegno alla dama e al suo compagno In merito a questa situazione Roberta scrive Prova di interessarti con un'associazione di consumatori Forte Se vi siano gli estremi per chiedere un rimborso danni Dalla casa farmaceutica Intanto fai foto Referti e quant'altro Di fatto Calogero non ha potuto lavorare Ha subito una invalidità temporanea Prova a contattare qualcuno Può valere la pena tentare In bocca al lupo Beh Io qua credo che la cosa non sia fattibile Anche perché Bisognerebbe dimostrare che fino a quel momento Lui al lavoro ci andava Ed era operativo Ma giusto per quantificare poi Il danno che ha subito Invece Crampi scrive Maledetta varigella alle mani Buona guarigione Aiutiamo in questo momento In cui Calogero Non può lavorare Facciamo gruppo contro la trincia Ma Scusa Crampi Ma che cazzo ci entra la trincia? E poi tra l'altro Mi sa che non ha eseguito manco bene La spiegazione Che la dama Ha dato in questa mini live Perché Ha detto che si tratta di Un'allergia alla pomata E si tratta di Un'ustione Gli utenti sono soprattutto preoccupati Che le mani in quello stato Gli provochino Un dolore molto forte E la dama dice Fortunatamente Sono due giorni Che gli danno meno fastidio Certo Ci vuole tempo E tanta pomata Continua dicendo L'ho visto piangere Ed è la seconda volta In 16 anni Quindi Immagina E qui Un utente chiede Beh sarebbe curioso sapere Quando è stata la prima volta Che l'ha visto piangere E caro utente A questa domanda Non posso E non so rispondere Però è curioso Vedere che Anche sotto a questa mini live La dama Ha piazzato Il codice LDNS Del 5% Di sconto Per chi si abbona A Come si chiama Sto coso Cosab Che Per chi non lo sapesse È un sito Dove praticamente Abbonandoti A piattaforme Di streaming Tipo Non lo so Netflix Disney Plus Puoi avere Un abbonamento A prezzo Stracciatissimo Anche condividendo L'intera somma Con altre 4 persone Cosa che Se un utente Abbonato Facesse Su tipo Netflix Il suo abbonamento Verrebbe All'istante Oscurato Questo perché La piattaforma Di stream Tipo Netflix Concede Un abbonamento A testa O magari Da condividere Con qualche familiare Non è che puoi condividere Il tutto Con 4 5 persone Questo Va ad arrecare Un danno economico Alla piattaforma Poi un'altra cosa curiosa Che lei ultimamente Sta postando Sotto le sue Ultime live È il Grazie per aver visto Il mio video Se ti è piaciuto Lascia un like Condividi con gli amici E commenta solo Per un saluto Però Se scordate di dire Attenzione Che ho I commenti In approvazione Nel senso Che se mi dai ragione Se mi sostieni Il tuo commento Verrà pubblicato Altrimenti Finisce dritto Dritto nel cestino E dato che Si è fatta una certa E ho detto Tutto ciò Che volevo E dovevo dire E poi tra l'altro Tra circa una Mezz'oretta E in programma Una live Del canale Dal canale Come cazzo Si dice Di Fate E che porta per titolo Chiara D'Alessandro Nasconditi Tra parentesi Con super ospite Ora La butto lì Sarà mica Erbetta? E beh E chi può dirlo Solo il tempo Ci può dare Ragione O torto Beh Io adesso Vi saluto Vi auguro Buona continuazione Di serata E vi invito A seguire Quello che sarà Il prossimo contenuto Ma Nel frattempo Che succede Tutto questo Un bacio a tutti Da Gossip Un bacio a tutti Un bacio a tutti Sì Grazie a tutti